C'è un ragazzo che viene da una buona famiglia, frequenta il Collodi che è uno dei migliori licei di Roma è un ragazzo che vuole sempre avere la situazione sotto controllo, vuole dettare le leggi, insomma vuole fare un po' il matto Ci riesce, ci riesce, ci riesce, sì Stato apparecchio? Stato apparecchio, vogliamo parlare Apparecchio dei denti, vogliamo parlare un attimo, perché secondo me è un po' lo... Guarda che spacco con l'apparecchio dei denti, è fighissimo Appena me l'hanno detto ho detto oddio io Poi con Andrea ha detto ma tu sei fighissimo con questo apparecchio Ma quando ho fatto una scena mi diceva, non vuoi vedere, fai così E' stato bellissimo prendere parte di questo pazzesco, gigantesco progetto E sono onorato